Noi attraverso questo accordo sperimentale unico e primo in Italia introduciamo dei principi che verranno recepiti poi nell'accordo nazionale e in sostanza si prevede che nelle postazioni dove attualmente non si riesce a reperire un medico si possa creare un meccanismo ABESPOC per cui comunque il cittadino ha comunque una risposta. Il meccanismo sperimentale prevede poi che attraverso uno studio della statistica degli interventi si possa modellare comunque una centrale che risponde e smista le chiamate e i bisogni dei cittadini secondo un criterio che fa perno evidentemente sulle risorse esistenti. Io sempre per non essere equivocato è chiaro che il servizio di continuità assistenziale è diverso da quello emergenziale del 118 ma voglio ricordare che comunque il servizio 118 in caso di sintomi pericolosi è sempre il numero di riferimento. Voglio sottolineare che questo accordo anche sperimentale migliora i trattamenti del personale che viene impiegato soprattutto in orari notturni attualmente la prestazione viene remunerata con 23 euro l'ora con questi accorgimenti si può arrivare anche a 40 euro l'ora ma quando i medici riescono a sostituire altre postazioni non coperte. In quelle zone dove la richiesta è più bassa la presenza del medico della continuità assistenziale si interrompe alle ore 24 e poi riprende con il medico di famiglia alle ore 8. In quelle zone dove invece l'assistenza è un pochino più consistente ci sono più richieste ad esempio le strutture residenziali, gli hospice, l'ospedale di comunità lì rimane invece un'assistenza che va dalle 20 di sera fino alle 8 del mattino. Quindi un primo passo che va nel senso anche di cominciare ad applicare, capire quali saranno le nuove regole con il PNRR e quindi con la presenza di una centrale operativa che gestisce sul territorio le risposte ai bisogni dei cittadini.